C'è una sinistra, che è la sinistra della coalizione sociale. Io preferisco dirla vedendo alcune facce di una coalizione asociale. Se qualcuno immagina che il futuro sia con Maurizio Landini, Oreste Scalzone e Franco Piperno, auguri. Io voglio dirvelo a quelli che non vengono dalla mia storia. A quelli che vengono da un'altra storia. Quello non è il vostro passato. Avete combattuto una vita con quel passato lì. Non è il vostro passato o non è il mio passato. Quello che sono certo è che non è il mio futuro. Spero vivamente che non sia il vostro futuro. Perché pensare di scrivere una pagina di futuro che passa da persone che non sono sconfitte soltanto dalla storia, ma anche dal buonsenso, è un elemento di un azzardo che io non auguro a nessuno dei miei amici e dei miei compagni di strada. Ma quella coalizione sociale lì, quella roba lì, è destinata ad essere sconfitta chiaramente. Non soltanto nei numeri, ma anche dalla logica. Però c'è.